Sì, io lo so. Che c'è Don Michele Corleone a casa tua. Posso passare due cancelli con te. Fettoso. Su l'ens! Damolin, Damolin! Chi c'è? Don Tupassino, sparato, trovorono. Non l'io? Il mio padrone moto è sangui chiamma sangui. Io l'accia vendicari in qualsiasi maniera. Ognuno fosse a fare, dimmi. Non c'è avagio di qui. Comagnatemi. Ditemi c'è avagio. Ma io lo vendicherò. Non c'è avagio. Grazie.